Io penso che la minaccia delle elezioni sia anch'esso un modo di attrarre i cosiddetti responsabili che non vogliono tornare a casa e l'altro modo è quello di promettere e di far vedere delle poltrone. Ma dicevate, diceva Orlando, non c'è un problema, il problema non è morale. Io però, Vice-Segretario, credo che ci sia anche un problema morale in questa cosa. Cioè, vedere Maria Rosaria Rossi con quel curriculum e con quello che dicevate sia voi che 5 Stelle ricevuta a Palazzo Chigi pone un tema. Cioè, perché quando Berlusconi raccattava quelli che si chiamavano una volta trasformisti, era moralmente disdicevole e adesso che lo fanno quelli che allora contestavano quei metodi diventa giusto. Cioè, c'è un problema di doppia morale. Ma scusi, ma lei le sembra immorale in questo momento porsi il problema che un paese in piena pandemia è meglio che non rimanga senza governo? No, per l'amore di Dio, che ci sia bisogno di un governo, il problema è la risposta. Un conto è aggregare sulla base di un disegno, un conto è promettere poltrone a chi stava... Mi pareva che questo argomento l'avessimo superato, perché non credo che si superi questa fase semplicemente aggregando i singoli. Credo che ci voglia un passaggio ulteriore. In questo passaggio la questione era, sta su o cade il governo? Se in questo momento fossimo senza un governo, il paese starebbe peggio. Se da questa condizione si riesce ad allargare, abbiamo vinto. Se invece non ce la facciamo, allora mi deve spiegare... Orlando, mi perdoni, è lo stesso ragionamento che faceva Berlusconi quando prese Razzi e Scilipoti. E peraltro Berlusconi era anche eletto dal popolo. E io dico che voi, giustamente, e io con voi lo criticavo. Non mi sembra che la... O sbagliavate allora, o sbagliate oggi, o c'è una doppia morale. Non c'è nessun tipo di doppia morale. C'è una situazione generale relativamente diversa. La più grande recessione della storia del paese, la più grande pandemia della storia del mondo, la più grande situazione di crisi sociale che è alle porte, per quanto non si sia già consumata in questo momento. Mi pare che siano tutte ragioni sufficienti per dire che è meglio non fare una crisi di governo e se qualcuno lavora per evitarla, come dire, può anche essere discusso, ma non gli si può dare del pazzo o del venduto. Anche perché mi deve spiegare quali poltrone sono state promesse. Beh, ce ne sono tre rimaste. Ce ne sono tre. E lei pensa che qualcuno... Il Presidente del Consiglio ha apertamente offerto la... Ci dica solo che non date a Ciampolillo l'agricoltura, poi sul resto siamo tranquilli. E a lei risulta che qualcuno di quelli che hanno votato è andato, andrà a ricoprire uno di questi luoghi. No, vabbè, insomma, speriamo proprio di no. Io non lo so, però... Ma allora se non lo sa, perché fa questa illazione? Io non lo so... Se non lo sa, perché fa questa illazione? Non so, per esempio, cosa si sono detti i conti in Maria Rosaria Rossi. Ma non lo so neanch'io, sicuramente. Non gli ha detto che andava a fare il Ministro dell'Agricoltura. So come sa lei, respirando l'aria dei palazzi, l'altro giorno il Senato era un suc a cielo aperto, che in questo momento di aspiranti Ministri dell'Agricoltura ce ne sono diversi. Così come... Vabbè, però non è stato scelto, Alessandro, non si può fare il processo all'infezione. Secondo lei uno di quelli che ha votato... No, mi risponda a lei. Ma secondo lei uno di quelli che ha votato farà il Ministro dell'Agricoltura? No, lo chiedo a lei. No, no. Io lo scudo. No, questa è una notizia. Lei esclude che sarà dato un posto di governo, l'Agricoltura, la famiglia o il sottosegretariato agli esteri, a uno dei responsabili che stanno accorrendo? Lei lo esclude? Silvia Sciorilli-Borelli, che crisi è questa?